Ecco i nostri tifosi della gioventù castellina del Castelfrentano a seguito della prima squadra per la prima gara dei play-off qua a Farafilon Petri, oggi c'è la gara secca, la prima gara dei play-off, c'è il capo Ultras, Christian, sono ragazzi simpatizzanti del Castelfrentano, dopo ci sono tanti ragazzi tesserati della Virtus Castelfrentano, allievi giovanissimi e sorvienti.